Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e questo pacco è il pacco che in tanti di voi stavano aspettando ed è la Fatbike, ma prima di far vedere cosa c'è all'interno del pacco vi invito a provare il programma PDF Element con PDF Element potete non solamente generare file PDF o anche combinare dei file insieme potete anche modificare dei file già preesistenti come per esempio dei moduli aggiungendo, togliendo delle cose o anche delle caselle non solo integra anche un OCR, ovvero se avete un file PDF che è stato scansionato quindi non è stato generato da un altro file Word o Excel o qualcos'altro ecco con PDF Element potete generare un altro file tramite l'OCR integrato anche in lingua italiana per generare un altro file leggibile, ovvero dove potete copiare e incollare le cose adesso da bravi che avete cliccato sul link sotto del nostro sponsor apriamo la scatola e vediamo cosa c'è dentro ed è come potete notare protettissima è una delle biciclette elettriche impacchettate meglio che ho mai visto anche questo pacchetto è stato protetto molto bene, manuale di istruzioni anche davvero sono molto molto impressionato da questo imballaggio fatto non a dovere ma di più è impossibile che si possa danneggiare o rigare o altro, è davvero impossibile anche il sellino gli hanno messo un bel cappuccio qua all'interno della scatola troviamo il manuale di istruzioni protetto da un sacchetto in nylon il manuale di istruzioni è tutto in inglese è un manuale uno dei più completi che ho mai visto per una bicicletta elettrica addirittura con tutte le fotografie e le spiegazioni non solo include anche il manuale di istruzioni del computer di bordo all'interno troviamo anche questa scatola nella quale troviamo i due pedali da montare questa scatola con all'interno il caricabatterie è un sacchetto con all'interno tutti i cacciaviti e le chiavi che ci servono per montare e smontare eventualmente tutta la bicicletta ma ci servirà più che altro per montare la ruota anteriore che come potete notare riva smontata le forcelle anteriori arrivano con una protezione per evitare che durante il trasporto si possano piegare eventualmente per una botta o altro e questa è una cosa molto positiva perché siamo sicuri che le forcelle quando arrivano arrivano dritte una volta montata la ruota e ricordatevi di mettere un po di grasso sull'albero prima di montarla ovviamente il grasso non deve andare sulla parte filettata a questo punto potete montare il pedale destro e il pedale sinistro ricordatevi che non si possono scambiare e c'è scritto anche quale pedale ER destro e su quello sinistro c'è scritto L una volta fatto questo possiamo aggiustare l'altezza del manubrio e anche del sellino che come potete notare sono veramente alti per diciamo un'altezza come la mia e quindi sicuramente questa bicicletta va bene per qualsiasi altezza anche superiore ai due metri infatti per la mia altezza va bene anche solamente così e se non volete regare cambiando l'altezza del manubrio e anche del sellino potete mettere un po di grasso io utilizzo del grasso al silicone invece per quanto riguarda la catena utilizzo un lubrificante particolare per le catene che vi lascio nella descrizione del video per quanto riguarda il freno a disco posteriore arriva già montata la ruota quindi è già registrata è perfetta per quanto riguarda invece il disco anteriore bisogna registrare il freno come si registra? si allentano queste due viti si centra il disco tra le due pastiglie a questo punto si ristringono le due viti con la bicicletta arrivano due paia di chiavi un paio serve ad accendere e spegnere la bicicletta che come potete notare in questo momento non si accende e questo perché non ho utilizzato l'altro paio di chiavi che si infilano qui sotto all'interno proprio della batteria per attivare la batteria o anche per staccare la batteria come si fa? si schiaccia la chiave si gira si toglie la sicura si piega la bicicletta perché la bicicletta è anche pieghevole a questo punto possiamo togliere la chiave che si può quindi staccare e ricaricare sia all'esterno della bicicletta quindi da portare non so in albergo o da portare dove non possiamo portare la bicicletta a portare solamente la batteria a casa o in ufficio per ricaricarla ma anche si può ricaricare quando è all'interno della bicicletta ovviamente anche il manubrio è pieghevole se vi chiedete se si può trascinare la bicicletta mentre è piegata si può fare ma questa chiave serve anche come una sicura che disconnette completamente la batteria quando non si utilizza per niente e quindi per accendere la bicicletta bisogna collegare la batteria come si collega si gira la chiave a questo punto non si può neanche staccare quindi adesso giro la chiave di qua tengo premuto il computer di bordo e si accende dietro abbiamo un cambio a sei rapporti della shimano e davanti abbiamo solamente una corona ma quanto è potente questa bicicletta? beh ha un motore da 500 watt che riesce a far raggiungere la bicicletta a 32 chilometri all'ora perché 32 chilometri all'ora non 35 per esempio perché sono 20 miglia e il limite americano 20 miglia equivalgono a 32 chilometri infatti la bicicletta arriva con il computer di bordo impostato in miglia e per riportarlo in chilometri basta entrare nel menu segreto tutte le istruzioni ve le lascio nella descrizione del video anche in un file pdf comunque ce l'avete nel manuale di istruzione del computer di bordo basta cliccare tenere premuto questi due bottoni entra nel menu segreto passiamo al menu p2 e qui passiamo da miglia a chilometri all'ora a questo punto ritorniamo nel menu normale cliccando tenendo premuto tutte e due questi bottoni meno e più e torniamo al menu principale abbiamo cinque limiti di velocità proviamo tutti i limiti questo è il limite numero 1 arriva a 13 chilometri all'ora probabilmente se qualcuno sopra arriverà a 10 chilometri all'ora passo alla modalità 2 siamo a 19 chilometri all'ora probabilmente arriverà a 15 se c'è qualcuno diciamo di pesante sopra la bicicletta il limite numero 3 22 23 quindi sarà 20 probabilmente con qualcuno sopra il 4 27 chilometri all'ora saranno 25 26 dipende dal peso di chi sale sopra adesso passiamo all'ultima velocità che è 32 chilometri all'ora questo potentissimo motore da 500 watt e deve essere potente perché abbiamo delle gomme fat come avete chiesto ecco quindi hanno un attrito non indifferente quindi la bicicletta deve avere una forza una coppia maggiore rispetto alle altre biciclette che abbiamo visto ma questa ne ha davvero e faccio vedere anche come diciamo quanto ne ha osservate adesso cosa fa la bicicletta 1 2 3 vedete che la bicicletta accelera molto in fretta e sicuramente questa bicicletta di potenza ne ha perché ha tutta questa potenza ovviamente anche a causa della batteria che c'è all'interno è una batteria da una capacità totale di 10 ampere ora ovvero 13 celle in serie per 3,7 volt per cella sono 48,1 volt per la capacità di 10 ampere siamo a 480 watt ma quanti chilometri di range fa questa bicicletta con una carica con questa batteria beh loro dichiarano 30 chilometri allora se stiamo andando solamente con diciamo la batteria senza la pedalata assistita è 50 chilometri all'ora con la pedalata assistita e se vi chiedete quanto pesa questa bicicletta beh pesa 32,4 kg come al solito vi lascio il link a questa bellissima bicicletta assieme a un coupon sconto nella descrizione del video bellissima beh probabilmente se togliamo questi due parafanghi sarà ancora più bella ma fuori sta piovendo di brutto e diciamo di inverno servono di estate di sicuro li toglierò nel frattempo vi saluto e mi raccomando iscriviti